Francesco Modica, siamo ormai alla quarta settimana di preparazione, si avvicina all'inizio del campionato, sabato l'amichevole di Collatina. Innanzitutto, come va personalmente e come ti ritrovi dopo quattro settimane di preparazione? Personalmente sto abbastanza colto, però abbiamo fatto un buon lavoro con Corrado, siamo tutti un po' appesantiti, però questa settimana abbiamo già visto un po' frutti da preparazione perché corriamo un po' di più, fisicamente siamo un po' più pronti. Speriamo di andare sempre meglio. Sicuramente il pre-campionato con tanto di Summer Cup non era il test migliore per cercare di capire che Ferentino ci sarà quest'anno. Quello che è certo è che con l'inizio del campionato cambierà un po' tutto, anche l'approccio in campo. La Summer Cup è un po' un problema, siamo stati un po' penalizzati dalla preparazione, ma come si sa è un periodo di lavoro e penso che la Summer Cup non si dovrebbe disputare. Vedremo anche l'anno scorso, abbiamo fatto un po' di fatica nel pre-campionato, poi siamo partiti bene, tutto l'anno è andato bene. Si inizia sabato una marcia di avvicinamento alla prima giornata che sarà in trasferta ad Ostuni, l'avversario sarà a Latina, un test al di là della differenza di categoria che potrà iniziare a dare qualche dritta in più su quello che potrà essere il miglioramento della squadra dal primo giorno di preparazione a oggi. Sì, affrontiamo una squadra di una categoria superiore, naturalmente e fisicamente sono molto pronti, piuttosto di noi sarà un bel test perché se ci misuriamo e facciamo una buona partita con loro vorrà dire che siamo pronti per il campionato di Serie A di Lettanti. La tua aspettativa per questa seconda stagione in Amaranto dopo alcuni, diciamo tanti infortuni l'anno passato è quella che secondo te ormai sta maturando nello spogliatoio? No, la mia aspettativa è quella di star bene e di rendermi utile per la squadra, poi il gruppo è fantastico, siamo già tutti molto affiatati e lavoreremo l'uno per l'altro, per tutto ne sono sicuro. Con Paolo Galbini, vicini all'inizio della stagione, innanzitutto sei uno dei neo acquisti di questo basket ferentino, come ti stai trovando? Siamo alla quarta settimana di preparazione. Bene, a parte un pochino di stanchezza iniziale dovuta ai carichi di lavoro abbastanza sostenuti, stasettimana qui stiamo un pochino smaltendo la fatica, quindi stiamo preparando per arrivare al primo campionato il più pronti possibile. Certamente la squadra da molti è definita una squadra matura, anche a livello d'età, questo può essere un peso, almeno nella pre-season, visto che è considerato che si è affrontate squadre molto più giovani, ma a lungo andare può essere la carta vincente. Sì, la pre-season secondo me è sempre una storia a sé, chi entra in forma prima e chi lo fa dopo, dipende dai carichi di lavoro che sono stati fatti, secondo me bisogna prendere un pochino con le pinze le partite di prestagione, sicuramente squadra matura mi sembra per quanto mi riguarda, poi non so gli altri, a parte Zivo, mi sembra che gli altri siano gente matura, ma non così grande dal punto di vista anagrafico. E speriamo sì che possa essere un punto di forza per quando andremo avanti durante l'annata. Da persona e da giocatore che ne ha vissuti tanti di campionati, soprattutto nella vecchia B1, ora di Lettanti, quest'anno meglio il girone A rispetto al girone B e soprattutto nel nostro girone con lo sud la squadra da temere? Ma secondo me il girone sud non solo quest'anno, ma praticamente sempre è il girone quello più tosto, diciamo così, innanzitutto per i campi, dove al nord il fattore campo esiste poco, mentre quando vai a giocare al sud si fa fatica a vincere perché si gioca in campi sempre con pubblici molto caldi. Per quanto riguarda le squadre, tutti parlano, mettono in mezzo anche noi, diciamo Barcellona è quella accreditata da tutti come la squadra da battere, però secondo me ce ne sono altre che possono fare un buon campionato a partire da Agrigento. Non so, vediamo, vediamo il campo tra i valori reali delle squadre, poi sulla casa le parole si possono fare, però vediamo quando si inizierà a giocare. Sabato c'è il test di Latina, è un amichevole che può sicuramente dare qualche indicazione in più, visto che è considerato che l'inizio del torneo ormai è vicino. Sì, 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 sicuramente è un'altra tappa di avvicinamento alla prima di campionato, contro una squadra che non disputa il nostro campionato, però sicuramente sarà un test importante per vedere i progressi che siamo riusciti a fare ad oggi, anche perché mancherà una settimana solo da lì all'inizio del campionato, quindi vediamo se siamo riusciti a mettere a posto le cose che ci servivano a mettere a posto. Ultima cosa che ti chiedo, la tua ambizione in questa stagione a Ferentino e quella che hai già carpito nello spogliatoio della squadra? Vabbè, la mia ambizione è semplice, io vengo da un'annata, sportivamente parlando, disastrosa, quindi voglio far bene, voglio far bene per me, per vedere se sono ancora così a posto, così in grado di poter far bene in questo campionato e per la società, per la squadra che mi ha voluto e mi offre questa opportunità. Il clima che si risprende nel spogliatoio è buono, però ho detto che ancora siamo in prestagione, fare certi tipi di discorsi è ancora prematuro anche da quel punto di vista lì, quindi è una cosa che si vedrà piano piano, sicuramente c'è voglia di lavorare, voglia di far bene, quello sì, poi altri discorsi li lasciamo un po' più avanti. Grazie a tutti.